Il sottosegretario Silvia A Parliamoci Chiaro afferma che il governo non è sempre stato a conoscenza Via Libera il reintegro dei sanitari non vaccinati per il Covid A Prato tornano in servizio 12 tra infermieri osse e tecnici della prevenzione Inaugurato il primo dei due nuovi parcheggi del polo scolastico di San Paolo Previsti 120 posti auto in più Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato In primo piano la politica A Parliamoci Chiaro ieri sera erano presenti due sottosegretari del territorio Giorgio Silli e Patrizio Lapietra Silli ha parlato del fantomatico posto di polizia cinese in via Orti del Pero Affermando che il governo è al corrente della questione Lapietra ha fatto il punto sulle prossime mosse del governo Meloni Priorità ha detto è il taglio del cuneo fiscale Come dire, me ne sono interessato Non ho fatto pubblicità perché il governo di un paese è una cosa molto seria Soprattutto quando si parla di sicurezza nazionale Mazzetti ha fatto bene a fare il suo lavoro e a rappresentare al governo questo Io dico attenzione, equilibrio Perché pensare che il governo non abbia gli anticorpi Per vedere cose strane che attentano alla sicurezza Magari del nostro paese È un po' ingenua come cosa Ci ho messo gli occhi e la testa E siccome si parla di Repubblica Popolare Cinese Ho ricevuto nel mio ufficio sia ieri che oggi Degli attori fondamentali che stanno lavorando su questo Io però ve lo dico francamente, avrei evitato di parlarne Il governo è perfettamente a conoscenza Ci sta lavorando fin da prima che da Prato fosse segnalato Anche questo l'ordine del giorno è proprio diminuire il cuneo fiscale In maniera progressiva, in maniera tale che ci sia una diminuzione Sia per il costo delle aziende E fare in modo che ci sia quindi più liquidità all'interno delle buste paga Quindi è un lavoro che sicuramente deve essere fatto a 360 gradi Non solo con spot di carattere singolo Poi ha ragione, ci sono tantissimi contratti collettivi di lavoro Su cui bisognerà rimettere le mani e dare il giusto compenso ai lavoratori Ancora politica, ieri sera si è tenuta alla direzione provinciale del PD Convocata per fare il punto sulla sconfitta elettorale del 25 settembre E caratterizzata anche da una discussione sulle elezioni del nuovo presidente della provincia Dopo la frattura emersa ieri nel partito Tra la linea del segretario Biagioni e il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti La questione non è stata messa al voto Ma il segretario Biagioni nella sua relazione ha specificato che il candidato sarà il sindaco di Montemurlo Simone Calamai Non c'è stata alcuna opposizione Nel pomeriggio è previsto un incontro tra Biagioni e Prestanti Per riuscire a trovare un accordo e arrivare al 5 di novembre con un candidato unico Il PD procederà in giornata alla formalizzazione della candidatura di Simone Calamai Adesso alla sanità La ASL Toscana Centro è pronta al reintegro di 97 dipendenti Novax Che erano stati sospesi dal servizio Il decreto del governo ha infatti anticipato il via libera al reintegro dei dipendenti ASL Che non si erano vaccinati contro il Covid È stata disposta dal 2 novembre la revoca delle sospensioni dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale Nei confronti di 97 operatori del comparto sanitario, tecnico-amministrativo e della dirigenza medica È quanto prevede l'ASL Toscana Centro Con una delibera aziendale in applicazione dell'articolo 7 del decreto legge 162 del 31 ottobre 2022 Con il quale il governo ha disposto l'anticipo al 1 novembre Dello stop all'obbligo per il personale sanitario di vaccinarsi contro il Covid-19 Inizialmente fissata al 31 dicembre I 97 dipendenti interessati in questi giorni torneranno quindi in servizio nelle rispettive sedi Per la zona fiorentina si tratta di 27 sanitari Tra infermieri, os, tecnici della prevenzione e 8 tecnici amministrativi Per la zona empolese 9 sanitari tra medici, infermieri e os e 8 amministrativi Per la zona pratese 12 sanitari tra infermieri, os e tecnici della prevenzione Infine per la zona pistoiese e valdinievo le 27 sanitari tra medici, infermieri, os, tecnici, sanitari e 6 amministrativi L'ASA specifica che si tratta di una presa ad atto di una norma di legge che anticipa il termine dell'obbligo vaccinale al 1 novembre Tale disposizione non richiede alcun tipo di condizione per il rientro salvo i tempi tecnici per la definizione dei turni di lavoro È stato dato mandato alle direzioni sanitarie di procedere quanto prima a contattare il personale per una rapida emissione in servizio È stato inaugurato ieri il primo dei due nuovi parcheggi al servizio del polo scolastico di San Paolo Quando saranno completati entrambi ci saranno 120 posti auto in più a disposizione degli utenti Taglio del nastro per il nuovo parcheggio del polo di San Paolo, quello con accesso da Via Dossetti Da qualche settimana già a servizio degli studenti e dei dipendenti delle scuole che compongono il polo La scuola dell'infanzia alpino, la scuola primaria Frosini, la scuola media Burichi, il liceo Cicognini Rodari, l'istituto professionale Marconi e il liceo Livi Brunelleschi I nuovi parcheggi a disposizione del polo sono in realtà due per un totale di 120 posti E si compongono anche di spazi sosta per i ciclomotori e rastraliere per le biciclette Il polo di San Paolo a lavori ultimati si presenterà come un vero e proprio campus Ripensare alla viabilità a vantaggio dell'intero quartiere radunca una necessità I nuovi parcheggi rientrano in un più ampio progetto di rimodulazione della viabilità dell'area con percorsi casa-scuola Itinerari protetti con accessi diversificati per mezzi motorizzati, biciclette e pedoni E appunto nuove aree sosta, ampie e di facile accesso dalle arterie esterne Abbiamo oggi inaugurato un parcheggio, però non è solo un parcheggio Vuol dire anche risistemazione delle aree verdi esterne, camminamenti, nuove piantumazioni di alberi E poi c'è la palestra che sta andando avanti e tra poco sarà finalmente utilizzabile Una nuova scuola in arrivo, insomma veramente il polo di San Paolo in questi anni è diventato uno dei centri più importanti Ma anche più belli della città di Frato Per la realizzazione della nuova viabilità esterna al polo sono stati investiti 680 mila euro divisi all'incirca In ugual misura tra provincia e comune La filosofia che sta dietro a questo progetto è quella di rendere più attrattivo il polo San Paolo Espungendo le auto dall'area che dovrebbe essere recuperata per la socialità degli studenti Non solo questo parcheggio, ma ve ne è un altro in corso di realizzazione dalla parte opposta Sono entrambi due parcheggi che contengono 60 posti auto ciascuno, più posti moto E stiamo lavorando per realizzare la connessione ciclabile da via Dossetti alla via Galcianese È stato presentato ufficialmente ieri sera in San Domenico il libro Pluriversi a cura di Marcello Haitiani e Luisa Puddu Il testo è frutto del percorso Tessere per la felicità promosso nel periodo prepandemico dalla Fondazione Opera Santa Rita Un progetto che ha messo insieme esperti di diversi settori e discipline per discutere di felicità e bene comune nella società di oggi E che si è concretizzato anche in una mostra di Haitiani allestita nell'aprile 2019 nel complesso monumentale di San Domenico Ieri sera appunto un nuovo incontro per fare il punto della situazione a distanza di tempo e per illustrare i contenuti della pubblicazione Per noi c'era Giulia Ghizzani Da dove ripartire oggi alla luce anche degli eventi internazionali che stanno caratterizzando tutto il mondo? Da questo tema di relazioni rinnovate dove si cerca di mettere al centro il senso delle relazioni che non può essere legato alla logica dell'individuo in quanto tale ma necessariamente in una logica dove l'individuo si colloca in un contesto che possiamo definire appunto comunità, città e che è anche un po' il senso di tutto il percorso che abbiamo fatto con Tessere per la felicità una riflessione che cercava appunto di capire, comprendere come muta la città, come muta il contesto comunitario per capire come una persona possa essere collocata in questo ambito in una logica come abbiamo detto di felicità Scienza e arte sono come due arti di un unico organismo del pensiero umano, del sentimento umano eccetera che dobbiamo in qualche modo non fondere, non confondersi ma mettere in relazione continua e dinamica e questo è uno dei concetti base di tutto il progetto che avevo cercato di elaborare con tutti gli altri esperti esperti di diverse discipline che guidati dalla Fondazione Opera Santa Rita hanno realizzato tessere per la felicità tessere, quindi bisogna tessere tutti questi fili diversi Ci sono tante cose che Marcello ha fatto anche nelle installazioni che sono state fatte qui a San Domenico che mi hanno fatto riflettere su questo mondo che io non conoscevo e ci sono dei parallelismi immensi Puoi fare degli esempi? Per esempio lui aveva messo queste vetrate smerigliate nel guardare oltre in cui uno percepiva dietro questo vetro l'immagine di quello che c'era dietro senza vederlo, il nostro cervello in qualche modo ricostruiva, intuiva e anche per noi scienziati è un po' così, noi osserviamo oggetti dell'universo che non vediamo direttamente che vediamo indirettamente con radiazioni che non sono visibili ai nostri occhi o addirittura quelle di cui mi occupo io, le onde gravitazionali che sono visibili con degli strumenti che sono un altro senso che l'uomo ha e quindi c'è un parallelismo c'è la volontà di andare oltre quella che è in qualche modo la realtà apparente che i nostri sensi ci forniscono Si avvicina il fine settimana, vediamo che tempo farà con le previsioni come sempre a cura del Consorzio Lamma Buongiorno dal Consorzio Lamma, queste sono le ultime immagini che riceviamo dal satellite dalle quali possiamo vedere in maniera molto chiara la perturbazione che questa notte ha determinato le precipitazioni sulla nostra regione, sono precipitazioni che mancavano all'appello da più di un mese La perturbazione adesso si sta spostando verso i Balcani, al suo seguito ci saranno delle ampie schiarite ma passiamo subito a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi un cielo poco parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti al ridosso delle zone appenniniche nel corso del pomeriggio e in serata non si esclude qualche rovescio anche sulle zone costiere oltre che qualche rovescio che è sempre possibile anche sulle zone a ridosso dei rilievi Per quanto riguarda i venti saranno ancora forti di libeccio con mari fino ad agitati a nord dell'Elba Per quanto riguarda il motondoso questo tenderà comunque ad attenuarsi nel corso della notte quando i venti tenderanno a ruotare dai quadranti nord orientali Infatti questa è la previsione per domani, ci sarà un flusso di correnti nord orientale quindi aria più secca ma anche più fresca Lo stato del cielo sarà caratterizzato da cielo generalmente poco nuvoloso qualche addensamento in mattinata ancora sulle zone appenniniche dove non si escludi anche qualche occasionale pioggia sui versanti orientali Nel pomeriggio non cambia molto ancora prevalenti condizioni di cielo poco nuvoloso Per quanto riguarda le temperature, come dicevo ci sarà un calo delle temperature più marcato nei valori minimi e a qualche grado comunque le temperature caleranno anche durante il giorno Per quanto riguarda poi la tendenza per la giornata di domenica anche ancora una volta una bella giornata di sole sia al mattino che al pomeriggio i venti saranno ancora da nord est e generalmente moderati con rinforzi su arcipelago e litorale ma tenderanno poi ad attenuarsi nel corso della giornata le temperature rispetto a sabato non dovrebbero subire variazioni significative con questo direi che è tu Si conclude qui il nostro telegiornale del giorno l'informazione di TV Prato torna stasera alle 20.30 con il Tg della sera continuate a seguirci anche sul nostro sito www.tvprato.it Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti